400 uomini e donne, 39 mezzi terrestri, 25 unità navali e velivoli di Pescara sono stati impiegati da giugno a settembre nell'operazione Mare Sicuro 2018, la campagna della Guardia Costiera Marchigiana che ha avuto l'obiettivo di promuovere la cultura del mare e più in generale il senso di responsabilità per la tutela delle risorse e dell'ambiente. Il progetto, che ha visto l'impegno della pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali in qualità di testimonial, si è conclusa domenica scorsa con quasi 12.000 controlli effettuati. 96 sono state le persone soccorse, mentre 354 i verbali amministrativi elevati per un totale di circa 123.000 euro. 15 invece sono state le comunicazioni di reato inviate all'autorità giudiziaria, di cui 13 per violazioni dell'utilizzo del demanio marittimo, come l'occupazione o la gestione abusiva di stabilimenti balneari senza la necessaria autorizzazione. 19 infine sono state le persone recuperate e prive di vita, di cui 13 per annegamento dovuto a malore. L'operazione ha impegnato i militari in due fasi distinte, una preparatoria con lo scopo di sensibilizzare i cittadini attraverso gli antilocali, le associazioni di categorie di volontariato e gli incontri negli istituti scolastici, e una operativa nella quale sono stati intensificati i controlli sul territorio mediante pattuglie terrestri e unità navali ed effettuando attività congiunte terra-mare, il tutto per garantire una corretta e sicura fruizione del mare e assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenze.